All'Andrea Tortora di Pagani dal primo settembre entreranno in servizio due nuovi chirurghi, intanto potenziato il punto di primo intervento. Entro la prima decada di settembre poi nuove professionalità in arrivo anche all'Umberto I di Nocera Inferiore, potenziamento dei reparti a pieno regime per superare le criticità che si erano negli ultimi tempi acuite in concomitanza con la stagione estiva. Su Pagani sono arrivati dal primo settembre, arriveranno altri due chirurghi, dal primo sedici qualcuno arriverà a Nocera. Abbiamo potenziato in questo periodo il punto di primo intervento di Pagani con medici che appartenevano della continuità assistenziale e proprio l'altro giorno abbiamo completato i turni per far andare in ferie pure i medici del punto di primo intervento e del trasporto secondario, quindi l'azienda sta portando avanti quello che in effetti era la programmazione dei concorsi per questi specialisti che man mano sono contento che stanno arrivando. Fornisce i numeri precisi il direttore del DEA Pagani Nocera Scafati Maurizio D'Ambrosio. L'azienda sanitaria dice avvia dunque a completamento la programmazione dei concorsi per specialisti, mentre il salto di qualità telematico ha consentito di garantire le attività neurologiche sugli ospedali di Nocera Battipagli e Oliveto Citra laddove arrivi un paziente con un accidente cerebrovascolare. Abbiamo avuto l'assegnazione di quattro neurologi e quindi questo ha consentito di poter garantire la cosiddetta telestrocca non solamente come attività di guarda sull'ospedale di Nocera ma come l'ospedale di Nocera supporta anche l'ospedale di Battipaglia e Oliveto Citra nel momento in cui arriva un paziente con un accidente cerebrovascolare. Quindi attraverso questi collegamenti, attraverso questi sistemi di telematica riusciamo a garantire anche per la parte specifica, quindi neurologica, anche Battipaglia e Oliveto Citra. E si procederà in questo modo per tutta l'azienda man mano che arrivano questi specialisti. Resta da implementare, D'Ambrosio non è ben consapevole, il personale del pronto soccorso della struttura nocerina di Viale San Francesco. Ovviamente il pronto soccorso è la porta dell'ospedale, è la porta dell'ospedale dove nonostante che noi ovviamente assicuriamo tantissime risorse, noi abbiamo come dotazione organica circa 40-42 infermieri, 20 operatori sociosanitari, 20 medici. C'è bisogno ancora di altro personale, però almeno questo ci garantisce quello che effettivamente dobbiamo assicurare. Perciò dico, siccome il turno ovviamente deve essere garantito, H24 ci deve essere un turnover, bisogno che si riposino, bisogno che ovviamente che quando vengono facciano l'attività in piena serenità e tranquillità e per questo motivo dico all'utenza di utilizzare il pronto soccorso solo quando c'è bisogno. Benissimo.